...un filatico usato, un paio di scarpe nere, una cintola nera, una serie di sigari, un pacchetto di sigaretta aperto, una cromatta nera, una camicia bianca, una giocca di un abito nero, un pantalone di un abito nero, un cauccello nero, un paio di uccelli neri, 23 dollari e 12 centri. ...un genio, genio, genio. ...bena ricevuto! ...un applauso, vi prego! ...un applauso, vi prego! ...ancora! ...venite, veniteci! ...chi sei preso allora i paqueti verdi? ...ma che sapete? ...no, no, paqueti di verdi con la carta verdi! ...uno raggiù lo beccato, poi... ...ma che hai preso verdi! ...ma che faccia anch'io vero! ...chi vuole questo? ...vargi con la carta riciclata, dici! ...ci non ho ancora ricevuto il regalo! ...io so che notte se sei beccato le cannucce a forma di cazzo! ...che non ho ancora ricevuto il regalo! ...vorrei che tutti quanti sapessero che le cannucce a forma di cazzo era una nuova opera mia, no! ...ci non ho ancora ricevuto il regalo! ...ci non ho ancora ricevuto il regalo! ...ah! ...ah! ...qua mi chiedono chi è che ha regalato il cazzo di pinocchio qui? ... ...mario, Mario ha regalato il cazzo di pinocchio! ... ...che chi è che ha regalato il peccino? ...che non lo so! ...io lo prendo! ...questa è la 20 centesima, se lo prendo! ...no, ma io voglio sapere chi è! ... ...oh, chi è che ha peccato Mauro Dinosauro? ...eccolo! ...eccolo! ...che chi ha messo il diritto a alcuni che saranno come vuoi? ...no, non lo so, non lo so, non lo so! ...i non lo so, non lo so, non lo so! ...i non lo so, non lo so! ...è una fega! ...se il diritto a alcuni che saranno come vuoi, è che è una fega di! ...che non ho ancora ricevuto il regalo! ...chiai, ah! ...eh? ...che non lo so, non lo so, non lo so, non lo so! e tu hai fatto questa! ...he, tutto lo so, non lo so, non lo so! ...hai che ci voglio cercare di facciamo, tu hai! sei felice... ...è ma fuori dalle male che dobbia cantare e tonare ...e zuoma dei timori, sono i mali dei parenti... ...no, ma è stu, non lo so, non li ho, non lo so... ...i, non lo so, 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 non lo so. ...ia la me, stu, non lo so, non lo so, non lo so! Allora, alla fine di tutte le assegnazioni di regali, verrà fatta un'ultima estrazione per il regalo finale, che col grosso scatolone pesante e misterioso. Quindi ora, gentilmente, ricomponitevi mentre conciatelo avanti. Andate a posto, cazzo! Oh, come sei sboccato, cazzone! Io non ti siede, non parteciperà a l'estrazione finale. Ti siedi, no. Esatto. E niente forti che non ti siediti. Perché ioРivo anglie sal著uta! Non è proprio io per una sola strada! Io sono sb forced eins. Ecco, ti sembri anni giσ stage! È照 Mezzattà! Ma quant'è era più europeo? Farlo sacco il dire il lettaggio diiende più o meno. Non c'er ve lo sarebbe sono arricchito. Ragazzi ge ballò mixesmo. Se ne è resources e saranno arricchito. Non so, come 사고 mi drogò? ho capito c'è una mattina Valentina dove cavolo è?